Fra le principali novità del piano socio-sanitario è prevista un'unica rete ospedaliera integrata con diversificazione dei presidi secondo l'intensità delle cure per migliorare la qualità dei servizi e razionalizzare la spesa sanitaria. A questo fine sono centralizzate alcune funzioni non sanitarie di supporto gestite a livello sovrazzonale da sei società consortili denominate federazioni. Il piano definisce la distribuzione delle aziende sanitarie afferenti a ciascuna federazione. E' infine istituita la nuova azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino che comprende l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni Battista e le aziende ospedaliere CTO Maria De Laide e ospedale Regina Margherita Sant'Anna.